Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come creare e configurare un server su Discord. La prima cosa da fare ovviamente è creare un account su Discord, quindi parto già dalla premessa che voi avete un account Discord. Per creare un server, potete farlo sia dall'applicazione o software che dalla versione web, cliccate sul pulsante più e qui cliccate su crea server. Date un nome, ad esempio io lo chiamo test e cliccate su cambia icona per selezionare l'icona del vostro server. Cliccate su crea e nel giro di pochi secondi avrete il vostro bel server che è questo test. Potete ovviamente crearne quanti ne volete. Ora dobbiamo configurare il server. Abbiamo i canali testuali che sono contrassegnati dal cancelletto e i canali vocali che sono contrassegnati da questa iconcina dell'altoparlante. Quindi tasto destro sul server e andiamo su impostazioni del server. Nella prima parte, in panoramica, potete configurare il nome, la regione e l'immagine. Giù qui invece potete decidere se, diciamo, permettere tutti i messaggi o solo le menzioni. Io lascerei così come sta. Qui invece avete la possibilità di attivare o meno il benvenuto casuale. Ora, se utilizzate un bot, come quello di cui vi ho parlato in un precedente video, potete anche disattivare questa opzione e in questo modo, diciamo, ricorrete al bot. Se non avete un bot, utilizzate magari queste voci. Su ruoli invece abbiamo un ruolo di default, che è everyone, che può essere ovviamente personalizzato. Il mio consiglio è quello di creare un ruolo chiamato magari admin e assegnare, non lo so, un colore a vostra scelta e qui abilitare tutti i permessi. Dopodiché assegnare, nel modo in cui vi mostrerò dopo, al vostro nome il ruolo admin. In questo modo tutti avranno questo ruolo, ma soltanto voi avrete l'admin. Quindi voi potrete fare tutto e everyone, che sono tutti gli altri utenti, potranno fare il restante. Potete ovviamente creare quanti ruoli volete. Ogni ruolo può avere i suoi permessi. Quindi se lasciate, diciamo, i permessi in questo modo, sono di default. Quindi tutti i canali che creerete, e lo vedremo ovviamente tra poco, avranno questi permessi. Ovviamente potete personalizzare ogni canale con differenti permessi. Quindi il mio consiglio, per non creare troppa confusione, è quello di creare un solo ruolo, ossia admin, magari un secondo chiamato bot, e lasciare everyone così come sta. Magari vi spulciate ogni opzione e disattivate o attivate quello che volete o non volete che i vostri utenti facciano. Quindi ad esempio creare un invito, oppure no, espeller membri, oppure no, e così via dicendo. Su emoji invece avete la possibilità di utilizzare o degli emoji che sono sul server o caricare degli emoji esternamente. Quindi se avete degli emoji potete caricarli esternamente. Moderazione è molto importante. Ora io ho attivato la modalità streamer, quindi la disattivo, e vi faccio vedere. In moderazione vi sono diversi, diciamo, permessi da impostare. Ora, dipende ovviamente da una vostra considerazione personale, da un vostro desiderio. Personalmente io opto sempre per alto, perché in questo modo coloro che fanno l'accesso al server devono essere attivi almeno 10 minuti prima di scrivere. In questo modo si evita eventuale spam, o almeno si riduce. Con massimo avete proprio l'estremo. Io non ve lo consiglio, perché chi non ha verificato poi il numero di telefono con Discord non può chattare. Quindi io consiglio alto. Qui consiglio controlla i contenuti di tutti i membri. In questo modo si evitano spiacevoli sorprese. Qui invece potete attivare l'autenticazione a due fattori. Fattori assolutamente essenziali e di vitale importanza per evitare che magari qualcuno si appropri del vostro server. Quindi cliccate qui e seguite poi la procedura. L'autenticazione a due fattori serve, diciamo, per accedere al server solo con il codice che viene ricevuto sul cellulare. Naturalmente non è che i vostri utenti devono avere il codice, ma soltanto il proprietario. Su registro attività avete ovviamente un resoconto di tutto quello che fate, quindi non serve a nulla, agli altri, più che altro a voi per controllare cosa state facendo. Su integrazioni invece vi è la possibilità di integrare il vostro canale Twitch o un web hook da condividere con il vostro sito web. Se avete un canale Twitch, cliccate qui, diciamo, potete condividere gli utenti, gli abbonati di Twitch con il vostro server. Quindi seguite la procedura, indicate nomi, utenti, Twitch e così via dicendo. Widget invece permette di integrare il server Discord all'interno del vostro blog. Quindi potete decidere la stanza e avere il codice da copiare e incollare nel vostro blog. Se non avete un blog non vi serve a nulla. Modello server lasciate così e qui avete poi la possibilità di consultare i membri, gli inviti e il ban. Ora, vi sono due tipi di inviti. Gli inviti che scadono e gli inviti perenni. Io vi consiglio l'invito perenne. In questo modo, diciamo, se condividete magari il vostro invito ovunque, resterà sempre attivo. Una volta fatto questo, usciamo. Ora, per creare le stanze, cliccate su più, crea canale e qui decidete se volete un canale vocale o un canale testuale e date ovviamente il nome. Potete anche rendere il canale privato. In questo modo, diciamo, soltanto chi magari ha un certo ruolo può visualizzarlo. Quindi, una volta che avete creato i canali, cliccate con il tasto destro, modifica canale. E da qui potete dare una descrizione, scegliere se abilitare o meno la slow mode e dare i permessi. Quindi, come vi ho detto prima, ogni canale ha permessi, diciamo, condivisi. Però potete anche decidere in questo canale, ad esempio, che non si possono inviare messaggi. Quindi, cliccate sulla X e salva modifiche. In questo modo, diciamo, in questo canale, cioè test, non vengono inviati messaggi dagli utenti, ma solo da voi. Invece, in generale, sì. Quindi, per non creare centomila ruoli, io vi consiglio di modificare i ruoli di ogni canale. Se invece, magari, volete creare un canale con lo stesso tipo di permessi, vi basterà cliccare con il tasto destro, clona il canale, lo chiamate come volete, e questo canale avrà gli stessi permessi di questo. Quindi, molto semplice. Potete silenziare anche il canale per non ricevere le notifiche e avete la possibilità di creare invidi che scadono oppure no per ogni singolo canale. Se magari volete che chi effettua l'accesso dal link si ritrova direttamente in un canale, potete fare in questo modo. Naturalmente, anche per i canali vocali ci sono i permessi. Inoltre, potete decidere quanti utenti possono collegarsi nel canale vocale. Quindi, sostanzialmente, questo è tutto quello che dovete sapere per creare e personalizzare o configurare un server, al quale poi potete aggiungere dei bot, come vi ho illustrato in un precedente video, che offrono maggiori opzioni come messaggi automatici, benvenuti, moderazione più, diciamo, avanzata e così via dicendo. Quindi, questo è tutto ciò che dovete sapere per creare un server su Discord.